Ancora una volta grande successo per l'ottava edizione di Modo Incanto che si è svolta al teatro Giovanni Paolo II Olivarella diretto da Padre Stefano Messina. In passarella a presentare le ultime novità per la primavera estate 2019 attività importanti del territorio come Bimbo Mix Milazzo, Cambria Gioielli Milazzo e la stilista barcellonese Loredana Crisafulli. Sul palco anche i 25 partecipanti dei concorsi nazionali Miss Regenetta d'Italia, Miss Regenetta Over e Talent Kids, giudicati da maggiorità di qualità che ha avuto il difficile compito di selezionare i finalisti regionali. Diciamo che è stata un'emozione grande perché la prima volta Miss Cuore di Mamma era a livello più locale, è stata una cosa un po' più in grande, quindi una grande emozione, pensavo di inciampare. Comunque alla fine ci si diverte, è una bella esperienza, anche perché mio figlio partecipa con i piccoli, quindi la prendiamo così. E poi per un gioco siamo arrivati in finale. Allora mi sono avvicinata al canto da quando ero piccola che era all'asilo e infatti i miei maestri mi dicevano sempre di studiare canto e quindi mi sono iniziata una sera di karaoke e poi c'è stata una maestra di canto e poi da lì ho incominciato tutto. E' emozionante e piena di significato la sfilata ai ragazzi speciali del gruppo Labbo, coordinati dalla professoressa Maria Grazia Celi e l'esibizione di Biaggio che ha cantato Meraviglioso e Negramaro. Meraviglioso, ma come non ti accorgi... L'evento ha visto la straordinaria partecipazione della piccola Greta Cacciolo e della cantante palermitana Irene Filippone che sta promuovendo il concerto La Mia Bertè, un progetto contro il femminicidio. Siamo prontissimi, siamo pronti, prossime tappe abbiamo delle serate a Gangi, tra l'altro abbracciamo quest'anno anche la Germania e il Belgio, più tutte insomma le grandi piazze siciliane e italiane, quindi siamo prontissimi. Già abbiamo iniziato con qualche serata, è andata benissimo, quindi che dire, sono strafelice. Modo incanto sarà l'argomento del programma Momenti in TV da sabato 11 maggio alle ore 20.45 con replica domenica alle 12.15 e giovedì alle ore 22.10. Grazie a tutti.